Io sono odontofobico, cioè ho terrore del dentista, qua me l'hanno fatto passare. Da ragazzino mi hanno fatto un'estrazione a vivo, praticamente senza anestesia, e questo ha in generale un trauma abbastanza pesante che mi sono portato avanti per tutta la vita. E di conseguenza andavo dal dentista solo e soltanto quando avevo estremo bisogno, o non ne potevo fare a meno. Praticamente io facevo un lavoro che ero a contatto con il pubblico, di conseguenza non avere i denti e avere questi problemi di additosi, cattiva digestione e tutto il resto, mi portava ad avere una difficoltà nel contatto con le persone. Diciamo che superavo la cosa mascherandomi o cercando di non sorridere, cercando di evitare il contatto diretto con la persona. Mi sono incuriosito sempre di più e automaticamente ho provato a chiamare. E come ho già accennato prima mi hanno fatto passare la paura del dentista, perché c'è stato un approccio, diciamo, sincero da parte dei dottori. Si vedeva che erano interessati al mio caso, si vedeva che comunque erano portati a farmi capire cosa andavo incontro, cosa avrei dovuto affrontare. E quindi mi sono sentito capito e anche ho visto che da parte loro c'era l'interesse nel voler comunque trovare una soluzione più adatta alle mie esigenze. E mi ha cambiato il meglio, perché grazie al nuovo sistema che adesso invoca riesco ad effettuare una sticcazione molto più completa. I rapporti con la gente sono molto più vivibili, non ho più problemi di additosi, non ho più problemi di gestione. E poi appunto questo mi ha aiutato anche a affrontare i miei problemi di peso e sono riuscito, appunto con l'aiuto di un dietologo, di un dietista, anche grazie ai denti, finalmente, a masticare cosa che non facevo da un po' di anni. Cioè ovviamente deglutivo bocconi interi.